Ciao a tutti, oggi vi presentiamo un utile programma per ridurre la dimensione dei file PDF. Un software del genere può essere utile se ad esempio dovete inviare un file PDF oppure più file PDF via e-mail, ma magari questi file sono molto grandi. Il software in questione si chiama PDF Compressor e si può scaricare dal sito ufficiale pdfcompressor.org. Questo software è un aspetto particolare che riesce a comprimere i file PDF senza sensibili perdite di qualità ed inoltre è compatibile anche con il nuovissimo Windows 8. Scarichiamolo, premendo sul tasto download e attentiamo che il download sia completato. Ed ecco il download è appena terminato, quindi clicchiamo sul programma per installarlo. E eccoci qua. Prendiamo next, accettiamo next, la cartella va bene, next, install. Attendiamo che l'installazione termini. Ed ecco qua, apriamo finish. Ed ecco qua il programma si avvierà. Vabbè, ci ringrazia per l'installazione. Ed ecco qua. Semplicemente ci basta cliccare qui in mezzo oppure trascinare i file qui per comprimerli. Quindi prendiamo un file pdf. Ecco qua. Degli albi di topolino. Ne mettiamo uno solo trascinandolo. Ed ecco qua. Ci vengono date subito rapidamente alcune informazioni sul file. Quale la dimensione e formato. Qui in alto a destra possiamo selezionare la cartella dove mettere i file compressi. Ossia se in questa cartella oppure se sopra scrivere il file originale oppure se metterlo nella cartella sorgente. Scegliamo source folder. Quindi possiamo qui impostare le impostazioni della compressione. Better compression with minor quality ROS. Oppure lasciare semplicemente l'impostazione di default. E quindi chiamiamo start compression. Possiamo segnare anche process all. Per processare tutti i file. E attendiamo. Poi ci viene chiesto alla fine se vogliamo aprire la cartella di output. Mettiamo sì. Ed ecco qua. Questo è il file processato. In questo caso l'ha ridotto di pochissimo. Perché non abbiamo selezionato l'opzione. Ma se selezioniamo l'opzione. E rifacciamo la compressione. Ecco qua. Il file originale era 10,7 MB. Quello compresso è diventato 3,57 MB. E come si può vedere. Stiamo aprendo. La qualità è pressoché invariata. Questo è quello l'ha compresso. Questo è quello originale. Notare qualche differenza è pressoché impossibile. Bene. La video guida è terminata. Continuate a seguirci su Vitech. Ed alla prossima guida.